La Juve è tra le stelle d'Europa. Con il nostro tifo facciamola diventare la regina. Seguila con lo Juventus Club Lizziano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Barcellona. Quarti di finale di Champions League. Martedì 11 aprile ore 20 e 45. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Lizziano Bianconera, piazza Matteotti 22, Lizziano. Per contatti telefonici Antonio 348 80 88 803. Cristian 349 68 000 66. Giuseppe 347 04 17 623. E sempre Forza Juve, fino alla fine. La Juve, la Juve, la Juve, la Juve, è il bianco nera, la bella signora.